Buonasera, e ben ritornati ad un nuovo appuntamento con Sapere in Salute. Qui con noi in studio abbiamo la nostra esperta, la dottoressa Annalisa Subacchi. Buonasera e ben ritornata con noi. Vi ricordo che la dottoressa è biologo nutrizionista e presidente dell'associazione Aliak Onlus, l'associazione per la lotta alla celiachia e alle intolleranze alimentari. Insieme a lei, dottoressa, stiamo facendo questo percorso dedicato alla salute, al benessere e ovviamente tutto questo legato all'alimentazione. Esatto. Mi viene subito da porle una domanda. Ma quanto vale la nostra salute? È stato mai statisticamente provato un valore, un pile della nostra salute? La nostra salute dovrebbe valere tantissimo. Finché non consideriamo la nostra salute come la priorità prima, non staremo mai bene definitivamente. Purtroppo è un concetto che non è ancora passato definitivamente. La nostra salute deve essere proprio al 100%, deve valere al 100%, perché io se sono felice, se ho una sana alimentazione, una salute di ferro, avrò una vita tranquilla e normale e felicissima, insomma. E basta pensare semplicemente a delle piccole banalità, no? Ci si alza alla mattina con il mal di testa e la giornata è completamente rovinata. È sballata, comincia a rovinata, certo. Così fino a passare poi alle patologie, anche quelle più gravi, che finché si è in salute, finché si sta bene, finché si è giovani, non ci si rende conto dell'importanza che ha, del valore che ha la salute. Certo, specialmente nei piccoli, nei bambini, quindi fin da piccoli dobbiamo tenere in considerazione la nostra salute come la cosa più importante della nostra vita. Se non c'è salute, non c'è lavoro e non viceversa. Dottoressa, i suoi pazienti come stanno, c'è più che i pazienti, i telespettatori come stanno rispondendo a queste trasmissioni? Sente che incomincia a muoversi un pochino di sensibilità? Certo, quello sicuramente, sto ricevendo un sacco di domande, un sacco di richieste. Relative agli argomenti che toccano di più? L'argomento che si tocca di più è il nickel, sono le intolleranze, le allergie respiratorie, ma anche problematiche di peso, aumento di peso, diminuisco di peso, quindi anche la ciccia, la troppa grassezza, la troppa magrezza sono presi in considerazione. Posso fare un annuncio, vi rispondo a tutte le vostre domande, datemi solo il tempo di leggere e di riuscire a rispondere perché siete veramente tanti. Ecco perché molto spesso si tende a rimandare, no? Certo. Come per esempio l'argomento che abbiamo scelto oggi. Sì. Nel senso, parleremo di obesità. Certo. Purtroppo i dati statistici sono davvero allarmanti. Certo. In Italia, nonostante siamo una popolazione comunque che si dica che mangiamo bene, l'alimentazione mediterranea è la più sana che ci può essere. Ci sono 16 milioni di italiani che sono obesi. Certo. E questo è un dato che è in crescita. Molto allarmante per alcune parte. Certo, soprattutto l'obesità è presente nei bambini, nei più giovani. Questi bambini nascono già obesi, hanno una gioventù obesa e possono diventare obesi da grandi. Il problema è che si possono sviluppare tutte quelle patologie che sono legate alla sindrome metabolica. Questa è una bellissima slide che ho voluto mettere, proprio è l'evoluzione, la scala evolutiva del nostro bambino. Quindi dal sottopeso al normopeso all'obeso. Purtroppo un bambino su tre presenta la situazione dell'ultimo bambino in fondo a destra, quindi del più cicciottello. Un bambino su tre quindi è... Comincia a essere abbastanza allarmante. Quindi nelle nostre scuole, nella nostra società, i bambini cominciano ad aumentare di peso. Bambini che sono già grassi, hanno già uno stomaco enorme, dilatato, che mangiano purtroppo come noi adulti. Quindi hanno un'alimentazione simile alla nostra. Accumulano un sacco di calorie che ovviamente non spendono perché non fanno esercizio fisico. Vedi le tante ore di studio, quindi seduti a scuola, seduti a casa con i compiti, oppure il poco esercizio fisico. Le ore passate davanti alla televisione, magari utilizzando quei giochi interattivi, oppure lo stesso il computer. La rovina di questi bambini è stata anche molto il computer. È molto utile socializzare sul computer piuttosto che scendere in cortile e giocare a pallone. E il problema purtroppo si sta vedendo in questi ultimi anni. Anche se ci teniamo tanto all'alimentazione, siamo la patria dell'Expo, però bisogna ancora lavorare tanto proprio sull'educazione alimentare. Ecco, ma lei ha parlato di bambini, no? Sì. Ma sente che da parte dei genitori c'è questa sensibilità a questo problema, oppure fanno finta di nulla? Non tutti fanno finta di nulla. Una parte che è in aumento sta avendo maggior sensibilità proprio al problema. Quindi mi chiama, mi contatta, mi chiede anche spiegazioni. Mio figlio pesa tot e alto tot, quindi mi chiede se effettivamente c'è necessità di seguire un piano alimentare e quindi una corretta alimentazione. Se riusciamo a tamponare il problema proprio da piccoli, da grandi non avranno dei problemi cardiaci, dei problemi di colesterolo, di problemi di trigliceridi. Spesso quando vado nelle scuole a presentare proprio la sana alimentazione, ho bambini, classi in classi, in cui ci sono bambini che sono ipertesi e prendono la pastiglia. Persone, bambini che hanno problemi di colesterolo elevato, cosa inaudita, oppure problemi anche a livello di glicemia elevata e quindi prendono già la pastiglietta per il diabete. Quindi non arriviamo a questo punto, cerchiamo di prevenire. Se vediamo che il nostro bambino sta aumentando un po' troppo, non in altezza ma in larghezza, magari poniamoci delle domande, insomma, facciamolo seguire. Facciamo una visita proprio per vedere se c'è necessità di seguire una terapia alimentare specifica. Anche perché poi, se non sbaglio, se un bambino è grasso, fin da piccolo, questo bambino avrà delle cellule, queste cellule adipose, adipociti, che in realtà un bambino magro nella sua vita non avrà mai. Quindi sarà sempre predisposto ad aumentare di peso. Sì, infatti gli adipociti si formano nella prima parte della vita dei bambini, fino a un 20-25 anni. Quindi se in questo periodo io aumento di peso, questi adipociti si riproducono, si triplicano. Gli adipociti sono quelli che formano le maniglie dell'amore, la pancetta, l'adipe, esatto. Quindi nel momento in cui io voglio mettermi a dieta a 30 anni, però gli adipociti li ho formati quando ero piccolo, non riuscirò mai a mandarli via. Dovrò fare, per esempio, delle cose più drastiche, delle alimentazioni drastiche, che però non mi porteranno a delle soluzioni. Mi portano al famoso yo-yo, ti remolla. Quindi aumento di peso, diminuisco, poi riaumento, diminuisco. Cosa manca in questi bambini? La corretta alimentazione, l'educazione alimentare, lo stile di vita. Non hanno imparato a mangiare e quindi non impararanno mai a dimagrire. L'imparare a mangiare sicuramente lo si fa attraverso la famiglia, a tavola, ma anche a scuola. Anche a scuola, l'importante è quello. Il bambino guarda quello che stiamo facendo. Anche la slide che hanno appena fatto vedere, ho voluto mettere proprio la foto di una famiglia felice, proprio per dimostrare che una sana alimentazione è felicità, un'ottima forma fisica, benessere, energia, vitalità. Il bambino cicciottello è depresso, il bambino magro, ha più energia e quindi non sta fermo un secondo, è felice, andrà meglio anche a scuola, avrà meno problematiche. Qui non vogliamo parlare delle problematiche anche psicologiche che ci stanno dietro anche a un problema di obesità. Quindi i bambini sono cattivi, tra virgolette, quindi dicono quello che pensano. Quindi il bambino più cicciottello potrà essere deriso, tra virgolette, se non si sa difendere, dai suoi compagni. Quindi sarà più triste in questo senso. Il classico slang, ciccione, ciccione, è molto fastidioso. Anche perché problematiche alimentari di bulimia e anoressia stanno aumentando a 10-11 anni. Quindi l'età di queste problematiche si sta abbassando. Quindi bambini che sono cicciottelli, io noto che hanno questi problemi o di bulimia oppure di anoressia. E quindi c'è da fare proprio un percorso con nutrizionista e psicologo proprio per risolvere la problematica. Per non far insorgere questo problema, insomma, non deve essere un problema il cibo. Ecco, vedo che la regia sta mandando in onda questa slide relativa all'energia. Esatto. Molto spesso siamo stati abituati a considerare la chilo-caloria. Esatto. Cioè quando mangiamo, non so, solitamente i bambini cercano, ma anche noi adulti, la prima cosa che si fa, soprattutto per noi donne che siamo a dieta, guardare le calorie. Esatto. Anche se poi non è proprio così corretto. No, assolutamente. Infatti vi posso anche dire che una mela e una famosa cioccolata hanno le stesse calorie. Un cucchiaino di una famosissima cioccolata spalmabile. Però che differenza c'è tra la mela e la cioccolata? Anche se le calorie sono uguali, la mela è ricca di micronutrienti, di acqua, di sali minerali. La cioccolata invece sono solo degli zuccheri che diventeranno soltanto grasso. Infatti quando insegno la corretta alimentazione, ai ragazzi insegno sempre non guardate le calorie, guardate da che cosa sono fatti gli alimenti. Perché io posso mangiare 2000 calorie di pasta come posso mangiare 2000 calorie invece di altri alimenti, frutte, verdura, carne, pesce. Però se mangio 2000 calorie di pasta magari ingrasso, se mangio 2000 calorie di altri alimenti non ingrasso assolutamente. Quindi guardiamo non tanto le calorie quanto il bilanciamento proprio dei micronutrienti che esistono all'interno degli organismi. Ecco, qui c'è la differenza tra, nel senso, diversi alimenti che noi assumiamo e le diverse calorie che sprigionano. Che calorie che sprigionano. Esatto. Per esempio gli zuccheri. Esatto, hanno 4 chilocalorie per grammo. I grassi, i lipidi, 9 chilocalorie. Le proteine, 4 chilocalorie per grammo. Infatti se l'occhio cade, le proteine e gli zuccheri hanno lo stesso valore energetico. Però sappiamo che un piatto di pasta forse ci fa ingrassare di più rispetto a una bistecca, a una proteina animale. Questo perché? Perché bisogna, ritorniamo ancora al concetto della crema spalmabile con la mela stessa. Bisogna vedere poi da che altre proprietà sono fatte questi micronutrienti, questi nutrienti. E un giusto accostamento con un giusto calcolo calorico mi dà la dieta ottimale, quindi l'energia ottimale. Quindi parliamo di fabbisogno alimentare? Certo, fabbisogno energetico. Pensate che il fabbisogno energetico è quanto un individuo deve introdurre nell'arco della giornata per riuscire a stare in piedi, quindi a vivere correttamente. Esistono quindi dei livelli di calorie raccomandati, ci sono delle tabelle che sono scaricabili anche online, in rete, che a seconda dell'età e del sesso mi dicono quante calorie deve bruciare un individuo. Una tabella di queste l'ho voluta mettere. E' inquietante vedere come un ragazzino di 6 anni, maschio, brucia 1848 calorie al giorno e una femmina 1660 calorie. Ma se vi cade l'occhio sui 16 anni, addirittura deve bruciare 2745 calorie e la femmina 2184. In teoria? In teoria, perché nessuno le brucia. Nel senso, dovrebbero fare molta attività fisica. Allora, queste tabelle sono delle tabelle generiche, che non tengono conto della nostra società, del nostro stile di vita. Io penso che se un ragazzo di 16 anni dovesse mangiare quasi 3000 calorie al giorno, saremmo nella categoria degli obesi, quello che poi sta succedendo. Certo, certo. Quindi il problema è che se io imparo a mangiare correttamente fin da piccolino, accelero il mio metabolismo. E' un po' come una stufa. Più metto energia, più metto legna in questa stufa, più questa stufa l'esce a bruciare. E quindi magari riesco a trovare dei bambini a 16 anni, magri, che hanno un metabolismo molto accelerato, che fanno sport, che fanno movimento e quindi possono bruciare quelle chilocalorie. Il problema di oggi è che i bambini di oggi bruciano dalle 1200 alle 1300 calorie basali. Quindi non bruciano niente. Se non alcuni casi che noto, che trovo in ambulatorio, che bruciano 800-900 calorie. Ecco, ma lei come fa a sapere esattamente qual è il nostro metabolismo basale? Viene calcolato con una strumentazione specifica, che si chiama calorimetria indiretta, che va a rilevare la quantità di metabolismo, va a rilevare la quantità di anidride carbonica. C'è qua la strumentazione che lei ha. Bisogna dire che questo è uno strumento innovativo che arriva dall'America, quindi lei è sempre molto all'avanguardia, lo tengo pure in mano e intanto ne parliamo. E mi diceva proprio che addirittura negli ospedali, quelli di Milano, viene utilizzato ma con un casco molto grosso. Certo, che viene posizionato sulla testa dell'individuo, l'individuo viene fatto sdraiare e comincia a respirare. Questo casco va a rilevare la quantità di anidride carbonica che l'individuo produce. Il metabolismo funziona in questo modo. Più anidride carbonica, che è il nostro scarto, produciamo, più bruciamo. Meno anidride carbonica produco vuol dire che ho un metabolismo lento. Noi in studio non usiamo il casco perché sarebbe una strumentazione troppo difficile anche da trasportare. Anche perché il bello della tecnologia è questo, no? Esatto. In continua evoluzione. Esatto. Fanno delle app, delle applicazioni. Sì, da scaricare sul computer e quindi alla fine può essere anche portatile e quindi viene anche fatto direttamente in studio. Qui che cosa fa il paziente? Respira attraverso questo beccuccio. È una respirazione che dura 5-10 minuti. Quindi respira normalmente. Deve essere proprio una respirazione calma, tranquilla. Deve avere una preparazione specifica. Quindi deve essere a digiuno da 4 ore. Perché sappiamo che mangiando io accelero il metabolismo. E deve essere anche senza aver fatto sport da almeno 12 ore. Perché anche lo sport mi va ad accelerare il metabolismo. Quindi soffiando qua dentro per 5-10 minuti viene calcolato la quantità di anidride carbonica prodotta e attraverso un software specifico viene dato, viene rispecchiato il metabolismo basale. Ecco perché dico ho bambini che bruciano 800-900 calorie, mentre bambini che ne bruciano 1.200. Quando il loro metabolismo basale dovrebbe essere 2.700 calorie. Quindi che cosa ci serve questo strumento? Ci serve per determinare una dieta corretta. Nel senso che se io sono un bambino di 16 anni dovrei fargli un'alimentazione di 2.700 calorie. Ma questo non cala. Continua ad ingrassare. Quindi mediante il breathing che mi calcola proprio il metabolismo basale, l'impedenziometria che è la misurazione della massa grassa, massa magra e ritenzione di liquidi, riusciamo a costruire un'alimentazione ad hoc specifica. Ecco questo praticamente dice che è quello che bisogna non fare. Addirittura diceva che ci sono casi un po' anche estremi, tanto per far capire. Per esempio ci sono degli sportivi, lei segue anche molto gli sportivi, che praticano veramente tanto sport. Si parla di 14 ore alla settimana per esempio di ciclismo oppure di corso a piedi, quindi tantissimo. Che però hanno un metabolismo basale, lento, quindi dovrebbe essere intorno, non lo so, mi dica lei. Io ho uno sportivo che pratica 14 ore di bici a settimana, a livello quasi agonistico, è alto 1,70 m, pesa sui 60 kg e ha un metabolismo di 1.600 calorie. Che è molto basso. Che è molto basso. In teoria uno sportivo dovrebbe, è un maschio adulto, non ho detto l'età, ha dai 30 a 35 anni, quindi un maschio adulto, dovrebbe bruciare più di 2.000 calorie. Perché non ne brucia 2.000 calorie? Perché ha un metabolismo lento, probabilmente questo individuo è magro solo perché fa tanto sport. Quindi nel momento in cui smette di fare sport aumenterebbe di peso immediatamente. Quindi questo strumento mi permette anche di capire come funziona il metabolismo delle persone. Perché tramite l'impedenziometria il suo metabolismo non è così specificato in modo corretto, perché mi va a calcolare una media del metabolismo in base alla quantità di muscolatura che ha. Quindi tramite l'impedenziometria massa grassa, massa magra mi diceva 1.800 come metabolismo. Però è anche fondamentale perché uno capisce se si sta mangiando il muscolo oppure sta depositando grasso. Esatto, cioè se si mangia nel modo corretto oppure no. Quindi sono due strumenti che lavorano in maniera diversa, però possono lavorare in maniera complementare proprio per creare un'alimentazione ad hoc. Per lo sportivo sarebbe utilissimo da poter utilizzare, proprio per capire fin dove riesce a spingersi. Quindi come bilanciare l'allenamento per riuscire ad aumentare il metabolismo. Paradossalmente per questo sportivo non è consigliabile aumentare così tanto l'attività sportiva, perché è come se lui stesse andando ai 100 all'ora in terza. Quindi è inutile spingere la macchina ancora di più, dovrebbe diminuire, dovrebbe per esempio lasciare più spazio ai recuperi, cosa che non sta facendo per esempio. Mentre per le persone un po' in sovrappeso anche questo è fondamentale. Sempre assieme all'impedenziometria, perché ci sono per esempio donne che non riescono assolutamente a dimagrire. Esatto, o hanno l'effetto yo-yo anche. Certo, ho per esempio un caso, l'ho visto in studio ieri, di questa signora che non sta mangiando niente, ma continua a ingrassare. È una signora in menopausa, la classica. Ce ne sono tante, non mangio assolutamente nulla a tavola. Ma c'è ragione, con l'impedenziometro effettivamente abbiamo valutato che non sta mangiando assolutamente niente, perché c'è un indice nell'impedenziometro che mi dice se effettivamente la persona sta ipermangiando oppure sta mangiando poco o normale. Anche il marito si lamentava dicendo mia moglie non mangio niente, io mangio più di lei e dimagrisco. Il problema probabilmente è che sta rallentando il metabolismo. Infatti a questa signora è stata consigliata la calorimetria indietta. E l'ha fatta? La farà prossimamente proprio per valutare. Quindi non si sa, una donna di questo genere quanto potrebbe avercelo? Sui mille, mille, mille cento. Quindi significa veramente mangiare? Pochissimo, niente praticamente. L'obiettivo non è quello di darle una dieta di 200 calorie, perché altrimenti questa mi salta per terra, non fa la fame. L'obiettivo è quello per esempio di dividere la giornata in piccoli pasti continui, in 5, 6, addirittura 7 pasti. Quindi obbligarla a mangiare ogni ora e mezza. Perché? Perché in questo modo vado a riaccelerare il mio metabolismo, vado a stimolarlo. Mentre questa persona è una persona che fa colazione, pranzo e la cena a volte la salta. Quindi non sta mangiando assolutamente niente. Quindi sarà proprio rieducarla dal punto di vista alimentare e farle prendere confidenza proprio col cibo per riuscire a perdere peso. Bene, allora veniamo ad una domanda. So che l'è arrivata proprio in questi giorni. Gentilissima dottoressa Subacchi, sono mamma di un bambino di 10 anni. È alto 1,60 e pesa 80 kg. Aiuto, povera mamma. Anzi, povero bambino. Sono molto preoccupata perché continua ad ingrassare. Luca, Laura mi scusi il nome della mamma. Sì, c'è bisogno di magari prenderlo in considerazione, magari capire anche quali sono le sue abitudini alimentari. Nella lettera non sappiamo cosa sta mangiando, non sappiamo se sta introducendo le merendine, degli zuccheri, non sappiamo neanche se sta facendo attività sportiva. Quindi bisognerebbe indagare sulle sue abitudini alimentari e sulla sua vita, se è troppo sedentario oppure un pochino sportivo. e cominciare a regolarizzare l'alimentazione, quindi a bilanciare la colazione, lo spuntino durante la mattinata, il pranzo, la merenda e la cena. Spesso mi capita a bambini di questo tipo che fanno colazione con i tè preconfezionati per velocizzare, perché al mattino hanno sonno, non hanno voglia di alzarsi prima. E' zucchero puro, no? Un tè, dovrebbe esserci una slide. Andiamo a vedere, così per curiosità, esatto. Esatto. Ha 4,4 bustine di zucchero, che è come più o meno un piatto di pasta. Addirittura una famosa bibita... Cioè dentro, in un estate, ci sono 4,4 bustine di zucchero. Aprite 4 bustine e mezzo, le mettete dentro in un bicchier dell'acqua... Esatto. ...e che lo bevete, esatto. È praticamente zucchero. È zucchero puro. Un piatto di pasta ha 7 bustine. Quindi più o meno, da 4,4 a 7, addirittura avevo messo la Coca-Cola che è paragonabile a 7 bustine di zucchero, una lattina. È come mangiare un piatto di pasta. Quindi questi bambini magari introducono queste bibite gasate più volte nell'arco della giornata e magari non mi mangiano la pasta perché la mamma la sera vede che questo bambino è cicciottello, quindi non gli dà la pasta a un primo piatto. Però gli consiglia magari queste bibite gasate. Quando poi non si pasteggia con... Con anche la bibita. Esatto. Pizza bibita è un accoppiamento. Oppure spesso i bambini dicono non mi piace l'acqua, quindi bevo a pasto la bibita. Piuttosto che la bibita a pasto perché non beviamo una tisana. Io di solito propongo una tisana di zenzero che ha quel sapore dolciastro e piccantino. Lo zucchero io, quindi metto io la quantità di zucchero idonea e è qualcosa un pochino più grazioso rispetto a bere la semplice acqua, insomma. Questa è la consapevolezza alimentare, cioè quello che cerco di far capire quando in studio vedo per esempio i bambini al bambino di solito mostro proprio questo paragone e loro capiscono effettivamente dove stanno sbagliando. Quello che manca effettivamente è questa consapevolezza alimentare, ma non tanto nel bambino, anche nell'adulto perché è più la mamma che è più disperata perché non pensa che effettivamente questi alimenti abbiano così tanti zuccheri. E' forte anche questa slide dove si evince quante zulette di zucchero ci sono in un frutto e nella bibita. Esatto. Se guardate le fragole, la macedonia in alternativa a un succo di frutta forse è migliore perché le fragole hanno una zolletta e mezzo, mentre se guardate i succhi di frutta che vengono tanto considerati, però guardate quanto zucchero hanno. Aiuto, è una montagnola di zucchero. Tantissimo, tantissimo. Addirittura il frutto più calorico tra virgolette è la banana, ma non riuscirà mai a battere la frutta, lo zucchero conservato proprio in tutte queste sostanze chimiche. Insomma, quindi piuttosto che dare al bambino a metà mattina un succo di frutta è più consigliabile un frutto. Un frutto che può essere, se non volete, la mela, anche la stessa banana, delle fragole, la frutta secca, delle noci, delle mandorle. Il frutto lo so che è comodo, però attenzione, il succo di frutta è comodo, però attenzione perché contiene un sacco di zuccheri. E mentre un piatto di pasta, l'abbiamo detto anche un pochino prima. Sono più o meno sette bustine di zucchero, però la pasta, a differenza delle bibite o della Coca-Cola, che cos'ha? Ha le fibre. E quindi queste sette bustine di zucchero magari non vengono assorbite al 100%. Poi dipende anche dalla pasta. Piuttosto che usare la semola di grano duro, la farina doppio zero, magari posso usare la pasta integrale, la pasta di camoto, di farro, la maranto, la quinoa. Qui ho preso in considerazione la pasta di semola di grano duro, cioè la normale pasta. Però esistono anche dei cereali alternativi che il bambino è pronto a sperimentare. Quindi portiamoli sulle nostre tavole e facciamogli scoprire questi nuovi sapori. Ho bambini che mi mangiano la quinoa e la maranto, cosa che gli adulti magari a volte non fanno. Quindi al bambino piace sperimentare, se poi glielo presentiamo in una maniera graziosa e divertente, o magari lo coinvolgiamo anche a cucinare, può essere anche un'alternativa, un escamotage simpatico. Parliamo delle proteine che sono fondamentali nella nostra alimentazione, però ogni alimento ha la sua quantità di proteine. Ho messo una slide proprio per far vedere gli alimenti e le loro proteine. Le proteine stiamo parlando di carne, pesce, di uova, di formaggi e anche di proteine vegetali, come per esempio i legumi. Nella slide che ho portato ho voluto mettervi in evidenza la quantità di proteine nei singoli alimenti. Se notate, i funghi sono gli alimenti più proteici e paradossalmente i funghi vengono considerati come verdura. Oppure per esempio le lenticchie e i piselli sono molto più proteiche del famoso petto di pollo, che viene utilizzato spesso in palestra proprio per ipertrofizzare il muscolo. Quindi forse questa slide è proprio per sfatare il mito di petto di pollo, è molto più proteico rispetto ad altre cose. Questo più che altro andrebbe bene utile come slide per chi fa sport, quindi per chi capita movimento, per chi deve andare a ipertrofizzare il muscolo. Quindi bilanciando anche un'alimentazione, paradossalmente anche consumando una pasta con i funghi, io ho già introdotto le mie quantità di proteine necessarie nell'arco della giornata e ho mangiato un alimento che non è poi così grasso come per esempio il manzo, il maiale, oppure altre carni che sono carni animali, quindi sappiamo che hanno questi grassi cattivi che invece i funghi non hanno di certo. Davvero incredibile, uno solitamente si è abituato a sentire che devi mangiare la carne per prendere le proteine, quando in realtà non è così vero, si può prendere anche dai vegetali, guardate i vegetariani e i vegani, i vegani addirittura che non introducono neanche i formaggi, neanche le uova, alla fine loro non sono in carenza proteica perché le proteine le prendono proprio da tutti questi alimenti. Guardate la pasta, quante proteine ha? 10,9, quindi la pasta non è fatta solo da carboidrato, è fatta anche da proteine, se pensiamo al glutine, il glutine è una proteina, infatti i vegetariani usano molto glutine proprio in alternativa alle proteine animali. Ecco, nella nostra alimentazione sono fondamentali anche i lipidi, i grassi, che ovviamente non devono essere i grassi quelli cattivi, ma bisogna prediligere quelli buoni, quindi l'olio d'oliva, le noci, le mandorle, anche se una parte di grassi cattivi è necessaria, però si parla proprio di 1 a 3, 1 a 10 come rapporto, quindi i grassi cattivi devono essere la minima parte, mentre i grassi buoni devono essere la maggior parte. I grassi sono utili proprio per darmi energia, per darmi proprio una funzione plastica e di struttura delle mie cellule e anche una funzione di trasporto. Se pensiamo allo spesso colesterolo, trigliceridi, sono utili, anzi una carenza di questi acidi grassi può portare anche a delle carenze ormonali, quindi è necessario che ci siano nella nostra alimentazione sia quelli buoni, in maggior parte, che quelli cattivi proprio in minima parte, però i cattivi li prendo anche con la carne, già nella carne ci sono dei grassi cattivi, insomma, dei grassi cattivi che non vado a predivereggiare invece rispetto ai grassi buoni. Ecco, curiosando un po' sul suo libro La dieta secondo le intolleranze alimentari, che poi lei è possibile trovarlo ordinandolo anche sul suo sito internet, mi ha incuriosito il fatto che non solo lei utilizza, per quanto riguarda il problema dell'obesità, l'impedenziometria, questo test innovativo, ma ci sono anche dei test genetici proprio che vanno a vedere il nostro DNA. Certo, sono dei test che mi vanno a valutare la predisposizione all'obesità, un test che mi va a valutare anche l'assorbimento dei grassi e il mancato metabolismo, per esempio, dei carboidrati. Quindi sono dei test che insieme all'impedenziometro, alla calorimetria indiretta, posso utilizzare per capire come mai la persona non perde peso. Per esempio, la predisposizione all'obesità si è visto che è un gene che in certe persone magre è iperprodotto. Lei ha detto che hai l'FTO. L'FTO. È un gene che in certe persone magre mi permette di bruciare calorie, quindi di tenere un metabolismo alto, ma nella maggior parte delle persone questo gene manca, è silenziato. Quindi sono quelle persone che dicono io ingrasso anche con l'acqua. Sì, perché nella nostra alimentazione, che è fatta prevalentemente dai grassi cattivi, di cui quelli che abbiamo parlato prima, queste persone che hanno questo gene che non funziona, non riescono a bruciare determinati alimenti. Quindi magari io introduco la carne di maiale, la carne di cavallo, il manzo, pensando di fare una cosa buona, ma in fin dei conti il mio corpo non riesce a bruciare. È un po' come se io fossi un diesel, ma continuo a caricarmi a benzina. Quindi non vado, non ho energia. Ma c'è anche il gene OB. Sì, che è la stessa cosa proprio del gene dell'obesità anche. Sono quei geni che vengono proprio determinati mediante il test genetico, quindi o ci sono o non ci sono. Quindi è quel gene che ti dice fermati, sei sazio. Sì, oppure continua a mangiare. Spesso mi capita nei bambini che non hanno proprio questo gene e quindi loro continuano a mangiare e non hanno senso di sazietà, non riescono ad arrivare al senso di sazietà. Noi il senso di sazietà come possiamo farlo arrivare se non abbiamo il gene? Mangiando lentamente, quindi aspettando almeno 20 minuti, perché in 20 minuti il mio cervello riesce a capire quello che sta succedendo e quindi comincia a dare degli stimoli al mio stomaco dicendo guarda che sei sazio e quindi smetti di mangiare. Se io mangio in 5 minuti non riesco ad attivare questo problema, questo senso di sazietà e quindi continuo a mangiare e continuo a introdurre calorie. Quindi diamo l'ultima indicazione per le persone che avessero dei problemi di obesità o loro in prima persona oppure i loro figli. Certo. Il primo dato di campanello di allarme a tenere in considerazione? Aumenta la circonferenza della vita, quindi la circonferenza della vita deve essere 70-80 per le donne e 90 massimo per gli uomini. Quindi se il mio bambino comincia a avere queste pancette significative, non sono delle madigne dell'amore cose divertenti e belle, ma potrebbero essere anche un primo campanello d'allarme proprio per l'obesità stessa. Io dottoressa la ringrazio per l'argomento che abbiamo affrontato oggi. Invito ancora i nostri telespettatori a leggere il libro La dieta secondo le intolleranze alimentari della dottoressa Annalisa Subacchi nel quale potete trovare anche diverse ricette e tanti consigli legati alle problematiche dell'alimentazione, della salute come la celiachia, il lattosio, il nichel. Insomma, tantissimi spunti sui quali riflettere un manuale pratico, dove si dice quali test si possono fare e quant'altro. Allora, lo ricordiamo per tutti coloro che avessero delle domande da porre oppure avessero dei problemi da affrontare, possono fare utilizzando i riferimenti che vediamo ora nel studio di Cremone via Giuseppina 21, a Crema via Castello 12, a Manervio in via Verdi 64, il cellulare è 366-4759-134. Trovate tutti i riferimenti anche sull'associazione aliaconlus.org potete mandarle una mail che abbiamo sentito prima che arrivano numerosissime e piano piano risponderà la dottoressa a tutti. Annalisa Subacchi, chiocciola, hotmail.com e la trovate anche sul social network Lisa Nutrizionista su Facebook. Grazie ancora. Grazie. Vi sottoporrò anch'io, eh? Assolutamente. Anche se so già che purtroppo il mio metabolismo basale sarà un po' basso, perché non faccio sport in questo periodo e cerco di diminuire nell'alimentazione perché non voglio ingrassare. Quindi sarà un pochino basso, cerchiamo di svegliarlo. Però bisogna riattivarlo. Anche perché se no mano mano, un po' con la meno, cioè per fortuna però andando avanti con l'età, con la menopausa, il metabolismo si abbassa. Gli ormoni si fermano e il metabolismo si ferma, quindi se no mi toccherà mangiare aria. Esatto. Non vogliamo arrivare a questo punto. Io dottoressa la ringrazio. Grazie a voi. Le auguro un buon prossimo momento di serata, così come anche i nostri telespettatori. Arrivederci. Arrivederci.